Simeone Miajlovic Simeone ha fallito Io tra l'altro ho commesso un errore perché di questi avevo attaccato all'epoca il Catania di Lomonaco sulla scelta di Montella Un giorno Lomonaco mi chiama, mi prende e mi porta a Torre del Grifo e mi dice Visto che tu sei convinto che Montella non è un buon allenatore mi fa fare un pranzetto nella mensa di Torre del Grifo con Montella Da lì Montella a me dà una grandissima impressione, sensazione perché è un ragazzo umile, napoletano simpatico, molto intelligente E Lomonaco diceva guarda che la scommessa stavolta la perdi perché su Giampaolo a Catania l'avevo vinta io L'avevo vinta io, ricordatevi E Lomonaco guarda che ti sbagli su Giampaolo invece in quel caso si era sbagliato il direttore Su Montella mi sono sbagliato io, quante fesserie ho detto? Su Montella tante All'epoca, pure lei su Giampaolo, adesso non è che vuole vincere, lei vuole stravincere e io allora poi le butto dentro Giampaolo Non parliamo di Giampaolo Assolutamente, anche perché non è che lui abbia fatto male a Catania, è andato via con 22 punti Assolutamente, assolutamente Catania aveva una finalità Ma non può stravincere direttore, sia contento di Miajlovic, Simeone e Montella Ha sbagliato uno, ma io sto parlando dei tre che ha indovinato alla grande Le piccole società si mantengono vendendo i giocatori, creando le plusvalenze E purtroppo gli allenatori, ci sono allenatori che lavorano più per se stessi che per valorizzare il prodotto E in quel caso era così Io me ne sono accorti, ho cercato di cambiare le carte Singolarmente, allora sono tre allenatori che hanno mercato, uno no perché Simeone resta per i prossimi 100 anni a Madrid Quindi lo togliamo fuori, comunque Simeone è un'intuizione clamorosa, assurda di Lomonaco Io gli dicevo sempre Mi deve spiegare bene, come si arriva a Simeone, poi come si arriva a Miajlovic e come si arriva a Montella Dal nulla Conseguenza di Giampaolo Io ero convinto di avere un buon organico che andava valorizzato Ero convinto altresì che il tecnico pensava a valorizzarsi lui anziché valorizzare l'organico E ho cambiato, a quel punto ho preso un allenatore che potesse scendere in mezzo all'oro Che fosse ancora fresco di campo Difatti io gli dicevo sempre Lei è un grande capitano non giocatore che sta studiando per diventare un grande allenatore E mi fa molto piacere quando lui dichiara che l'esperienza di Catania per lui è stata molto formativa Però non si aspettava un trionfo così di Simeone, una carriera così veloce, rapida e vincente Devo essere sincero, ha trovato l'ambiente giusto Proprio adatto in perfetta sintonia con quelle che sono le sue prerogative Le sue caratteristiche Lui ha una capacità motivazionale notevole Riesce a dare una carica notevole non solo alla squadra ma a tutto l'ambiente Quindi all'Atletico Madrid lui ha trovato proprio l'ambiente adatto Come capacità di esprimere lavori in campo Montella secondo me è uno dei più bravi che c'è in circolazione senza ombra di dubbio Da dove nasce l'intuizione Montella? Io l'avevo seguito nei giovanissimi della Roma Non aveva perso una partita per tutto il campionato Poi dopo c'è stato quell'avvicendamento di qualche mesetto in prima squadra con la Roma E ricordo che quando la Roma è venuta a giocare a Catania Nel corridoio io gli ho detto Lei sarà il futuro allenatore del Catania Lui si è messo a ridere Appena la Roma non l'ha confermato l'ho chiamato L'ho fatto venire giù E quando abbiamo parlato di contratto lui ha fatto una cosa bellissima Da figlio di Napoletano Scaltro qual è? Era stato avvisato un pochino Non fare tante storie perché poi col direttore qualche problemino Mi disse quanto gli devo dare per questa esperienza Io usavo sempre una frase Quanto mi deve dare lei a me per il fatto che io sto decidendo di valorizzare Mi ha detto mi dia il contratto Ha firmato in bianco e mi ha detto faccia lei Io gli ho dato più di quello che avevo pensato di dargli Stiamo parlando sempre di cifre consone al Catania E gli ho detto tempo due anni lei va in una grande squadra Però l'impegno è che i soldi che gli do li deve restituire dietro Non li ha restituite Aia Vincenzino tira pure questi soldi Che il Catania adesso ne ha bisogno Scherzando Vabbè scherzando Posso chiedere una cosa su Simeone Se non trova un errore un po' limitativo Per Simeone essersi legato così all'Atletico Madrid Probabilmente qualche terreno anche più importante dell'Atletico potrebbe passare Se non ha fatto una scelta un po' difensiva No, una domanda che io rispondo con un'altra domanda È un uomo intelligente Siete sicuri che lui non sia cosciente del fatto che Come capacità di esprimere lavora Ancora non è un allenatore al top E quindi lui secondo me è un altro ambiente In qualche modo lo fa tentennare Mentre lì ha trovato tutte le caratteristiche Per poter esprimere Ma si è lasciato male con Simeone? No Alla fine a Catania nell'ultimo mese No, io ho fatto una scelta Ho preso Montella Io credevo molto in Montella Lui è ritornato in Argentina Ha vinto un campionato al Racing Quindi ha fatto anche bene Da dove nasce invece? Posso chiederti Vai Alfredo, scusa Posso chiederti Come vedresti Mijalovic al Napoli? Molto bene Forse è l'allenatore ideale in questo momento E se l'ipotesi, la traiettoria Rispettando la Fiorentina Il contratto e la claustro Tu vedi Montella pronto per il Milan da subito? Io vedo Montella pronto per il Barcellona Bene Al posto di Enrico Io lo chiamo Enrico Luiz Enrico L'idea Mijalovic da dove nasce? Quando arrivò a Catania Però ci accontentiamo del Milan Alfredo Perché mi sembra che il Barcellona In questo momento Vince la Liga forse Sta in semifinale di Champions Sarebbe interessante No, però volevo chiedere Da dove nasce l'idea Mijalovic Che comunque era un allenatore un po' particolare Soprattutto nel rapporto Mijalovic-Lomonaco Almeno in molti scommettevano Mijalovic-Lomonaco Durano insieme due allenamenti Perché sono due fuori di testa Non è vero anche perché È soprattutto un uomo intelligente È un vincente Proprio nel DNA C'ha questa capacità Di essere vincente E io in quel momento avevo bisogno Di uno che desse certezze Alla squadra Ed ero convinto che lui Queste certezze Riusciva a dargliele Proprio dall'alto di quello che era lui Poi è un percorso che viene strada facendo Perché lui era agli inizi Come allenatore Quindi è servito anche lui Per fare un'esperienza importante Io penso che ora il Sinistria sia pronto Per livelli importanti Napoli Ma Napoli Ma anche Milan Io dico Milan Inter Sono società in questo momento Che hanno problemi economici Io sento parlare di rivoluzione Sento parlare di cambiamenti totali Dell'organico Eccetera eccetera Però poi sento sempre aggiungere Purtroppo non ci sono soldi Bisogna fare di necessità virtute Ma non vedo nessuno puntare sul prodotto Andiamo sempre sul prodotto già noto In modo che nessuno possa parlare Che magari è un parametro zero Magari ci costa l'ira di Dio Ma si appesantisce sempre di più i bilanci Non vedo nessuno che punta Su giocatori che E ce ne sono tanti in giro per il mondo Bravi Che potrebbero veramente Mettere insieme una squadra giovane Ci sono i momenti in cui bisogna partire dall'anno zero No? Cioè se io ho dei debiti pesanti Il dovere Di una società seria Qual è? Quella di tenere un occhio a bilancio E quella di cercare di essere Quanto più competitivo possibile Ma si può essere competitivi Anche con delle squadre Che non siano fatte di nomi Grazie mille Grazie mille Grazie a tutti Grazie mille Oh Grazie mille Grazie mille